Eh no, Phalanx non è esattamente quello che ci aspettavamo, ma abbiamo il gameplay e quindi andiamolo a vedere. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo qui con Unite e Phalanx. Incredibile, incredibile. Io non lo sarei mai aspettato a questo Pokémon, ma... Diciamo subito una cosa. Ma quanto è... quanto è lungo? Cioè, come si dice in questi casi? Quanto? Quanto? Dai, è un po'... un po' troppo, forse. Devo far abbassare leggermente il volume, ma... È un po' tanto grande. Mi sembra... cioè, ne sono uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Assurdo. Intanto, vediamo le primissime mosse, ovvero Tickle e Bull Cup. Tickle e Bull Cup che hanno... Sembrano delle mosse abbastanza semplici, in realtà Tickle fa uno scatto e fa danno, molto semplicemente. E, tra l'altro, ci fa vedere anche qua che dopo ha un attacco potenziato e Bull Cup immagina aumenti attacco e difesa. Qui prende subito Megahorn. Megahorn, vediamo che cosa fa, ma anche questa è molto semplice. Infilza finché non ha l'altra mossa per... Vediamo. Si dice attacco e difesa. Ah, e attack speed, ok, per un bel lasso di tempo. Esatto. Infilza e butta leggermente in aria. Non so se l'avete notato. Poco poco. Cioè, sembra una mossa abbastanza scarsina, no? Sembra abbastanza scarsina. Sembra, effettivamente. Fra poco vedremo che cosa fa l'altra mossa, perché è molto interessante. Intanto Bull Cup qua... Vediamo che comunque è uguale al Bull Cup di Machop. Letteralmente. Non cambia niente. Al 5 non prende nessuna mossa. Infatti per ora non sembra neanche granché, dato che... Sì, abbiamo Megahorn che infilza, Bull Cup aumenta un po' attacco e difesa, insomma, niente di che. Ma, ma, aspettate, aspettate. Eccolo qua. Al 6. Prendiamo. Non Retreat. Intanto l'animazione di Scoring è bellissima. Non Retreat. La sua mossa peculiare che gli permette di... Vediamo un po'. Ecco, intanto ha questa forma qui. Cambiare posizione di attacco. Infatti adesso possiamo caricare. Avete visto bene? Ve lo faccio rivedere. Megahorn cambia. La possiamo fare in questa forma qui. E guardate esattamente il danno che prende Mewtwo. Sì. Sì. No... Non è un bug. Non so effettivamente se uscirà così. Perché mi sembra un po'... Un pochino troppo. Come danno. Non so. Giusto, sai, one-shotare le persone così. Full Vita non mi sembra la cosa migliore da fare. Però... È anche vero che hai bisogno di setappare, tra virgolette, la Non Retreat e poi caricare il Megahorn. Infatti vedete che Non Retreat trascina l'avversario che colpisci. Lo stunna leggermente. E poi hai la possibilità di caricare questo che fa un sacco di danni questo Megahorn. E tra l'altro, finché non premi No Retreat, tu mantieni questa mossa. È una mossa con 3 secondi di cooldown. Verrà sicuramente, sicuramente nerfata. Non è possibile che esca così. È veramente troppo, troppo forte. Ma... Che cosa fanno Retreat? Al momento sappiamo che cambia disposizione e cambia la forma... Cioè, non la forma, ma l'effetto di Megahorn. Molto interessante. Magari aumenta anche le difese. Non lo so come succede nel gioco. Magari poi lo vediamo quando escono proprio le cose precise di tutte le spell. Ma abbiamo la Unite. La Unite che cosa fa? Vediamo se se la utilizza. Intanto il simbolino lì è bellissimo con i cosini che girano. E infatti si mettono a roteare tutti intorno. E diventa una sorta di... Di mulinello di Azumarill, praticamente. Ma guardate qua la potenza di questa mossa. Appena fatto, una tripla, quadruple, non una tripla, per Phalanx. Mi fa ridere che camminino guardando in una direzione mentre vanno all'indietro. Cioè, vabbè. Non lo so, ma mi fa molto ridere questa cosa. Comunque, abbiamo... Quindi questo è il primo set di Phalanx. Con Megahorn e No Retreat. Andiamo a vedere il secondo, perché ragazzi, pure il secondo è molto interessante. Dato qua continuo a fare i devasti. Saltiamo al secondo. Ma prima, anzi, andiamo a vedere la passiva, come abbiamo fatto con Miraidon. Quando il Pokémon riceve un Critical Hit, una certa percentuale di danno è ridotto. Il Phalanx è un gruppo, vabbè, di cinque truppe e utilizzano tre formazioni. Formazione Colonna, No Retreat, la formazione No Retreat, e la Dispatch Formation. Quando una mossa è utilizzata in No Retreat o Dispatch Formation, l'effetto della mossa cambia. Ma attenzione, perché la parte succosa anche della passiva è questa qui sotto. Ovvero, questo Pokémon può avere con sé un po' più di Energia Eos degli altri Pokémon. Quindi, che cosa significa? Magari, siccome sono in 6, magari può caricare su di sé non 50 punti in totale, ma 60, 70, 80... Non lo sappiamo, andiamo a vedere in game e vediamo se ci dice qualcosa. Andiamo a vedere il secondo set. Sì, che poi sono scemotto, perché c'è scritto in realtà qui sotto, vedete? 21 di 35, quindi può tenere 5 punti in più. Che non sono granché in realtà. Però, magari, quando ne può tenere 50, ne può tenere non 55, ma 60, che già 10 punti in più, comunque... Vabbè, per carità, non fa schifo, è una cosa in più. Però, avrei messo qualcosina di più, di 5 punti. Comunque, per ora 35 abbiamo già la primissima mossa, ovvero Iron Head. Iron Head è un salto che va in una direzione, in una zona, fa danno e non so se stunna anche, ma vediamo. Vediamo adesso come lo utilizzerà. Vediamo, ecco che... No, non sembra stunnare, quindi semplicemente fa danno. Ma la cosa forte adesso è Beat Up. Perché Beat Up, pensate un po', vi permette di scagliare le vostre truppe contro gli avversari. E non sarete voi come andarle, ma saranno tipo dei botte. Infatti, vediamo... Cioè, non hanno proprio dei botte, ma attaccheranno da sole. L'utilizzatore, intanto Beat Up, carica in una direzione designata, facendo danno ai Pokémon che colpisce. Poi, l'utilizzatore cambia nella forma dispatch, mandando due truppe verso il Pokémon che colpisce. Le truppe continueranno ad attaccare il Pokémon avversario per un po', ma ritorneranno insieme agli altri, dopo che prendono un certo montone di danno, o che si separano dagli altri per una certa distanza. Quindi, puoi utilizzare fino al massimo di due utilizzi. Poi, accumulare fino al massimo di due utilizzi. E, eccoli qua. Vedete? Quei cosi che sono rimasti lì a terra sono... Tutti, tutte le truppe, insomma, di Falinks. Non penso che questa mossa si possa usare più di due volte, ovviamente, perché non ha a disposizione sei truppe da mandare. Cioè, dovrebbe mandare anche se stesso, il capoccio, insomma. Però sembra una mossa interessante, perché ha un piccolo scattino e, in più, lascia a terra questi... Questi... Queste truppe, insomma. E... Ragazzi, è interessante, perché, guarda qua. Questa è la meccanica che, magari, passa inosservato, però... Ah, tra l'altro, con Iron Head. Guardate un po' che succede. Se ci allontaniamo, ovviamente, loro ritornano verso di noi. Non proprio con Iron Head, ma comunque, se ci allontaniamo... E sul tragitto fanno danno, effettivamente. E... Guardate qua. Tipo, loro... Mh... Si fanno da soli la giungla. È una figata, questa. È una figata. Si fanno da soli la giungla, cosa importantissima. Quindi tu puoi, magari, andare a stilare la giungla avversaria... Certo, dopo che hai sbloccato Beat Up, non dall'inizio. Però, senza alcun rischio, perché, semplicemente, vai, ci lasci i tuoi... I tuoi sgherrini, i tuoi barbari, e fine. E insomma, guardate anche quanto danno fanno quando tornano da te. Guarda qua. Che adesso si lanciano e fanno un sacco di danni agli avversari. Veramente, veramente forte. E qua anche la stessa Unite di prima, ovviamente, che si mettono a ruoteare tutti intorno. Vorrei vedere una cosa, però. Che succede se io, con Beat Up, lascio i miei sgherrini da una parte, tipo a sinistra, e poi ulto a destra? Eh, perché ho i miei sgherrini, quattro perlomeno, sulla sinistra, però ce ne ho sei che mi girano intorno. Quindi, non so, si bugga, me ne dà dieci. Boh, quindi undici in totale. Non lo so, non lo so. No, che poi sarebbero cinque che mi girano intorno. Quindi, boh, una cosa strana, una cosa strana. Però, ecco, vedete che il DPS è veramente importante. Guardate qua, fa Dreadnought abbastanza velocemente. Non fanno troppissimi danni, ovviamente, i tuoi sgherrini, ma è comunque un danno aggiuntivo che può far comodo. Certo, l'altra mossa, ragazzi, mi sembra completamente fuori di testa. Verrà probabilmente bilanciata, perché fa troppi danni. Però questa po' anche mi sembra molto carina, eh. Mi sembra molto carina. Vediamo anche l'animazione di scoring di nuovo, perché è bellissima. Eccolo qua, abbiamo Iron Head, proprio. La descrizione. Quindi, leggiamocela. L'utilizzatore attacca un'area designata con la sua testa dura, facendo danno e applicando un effetto rallentante proprio che colpisce. E, ah, ci dà anche uno scudo. Non ci ho fatto caso. Quando l'utilizzatore è nella forma non-retreat, perché effettivamente possiamo utilizzare non solo Megahorn, ma anche Iron Head con la forma non-retreat, the moves range, quindi il range della mossa, è diminuito, ma l'area di attacco è più ampia. E l'utilizzatore ha i quattro prossimi attacchi base, can be used while it's moving, addirittura. Quindi possiamo attaccare mentre ci muoviamo per i prossimi attacchi base. Per i prossimi quattro attacchi base. E quando invece è in Dispatch Formation, ah, tra l'altro, aspetta, perché c'è anche la possibilità di fare Megahorn con Beat Up. Quindi nella Dispatch Formation non abbiamo visto ancora che cosa fa Megahorn. Quando quindi l'utilizzatore è in Dispatch Formation, le truppe ritornano alla forma colonna, allora era vero che ritornava quando usavi Iron Head, e ovviamente fanno danno e anche buttano in aria leggermente i Pokémon che colpiscono durante il ritorno. Quando viene upgradata, le truppe fanno danno addizionale basandosi sul massimo HP del Pokémon avversario. Quindi molto interessante. Vediamo se ci fa vedere un piccolo estratto della mossa Beat Up con Megahorn, perché purtroppo non ce l'ha fatta vedere finora. Ah, vedete, questa è l'animazione di scoring quando non abbiamo tutti al seguito. È un'animazione molto semplice, piuttosto che loro che si mettono tutti uno sopra l'altro. E vabbè, anche se non ce la fa vedere, comunque la vedremo questi giorni che sarò in live qui su YouTube oppure sul sito Viola per giocare sia Falings che Miraydon. Se non avete ancora visto il video di Miraydon, andatelo a vedere. Mettete anche un bel like a questo video, lasciate un commentino. Fatemi sapere quale preferite. Io, ragazzi, come gameplay, vi devo dire, non mi dispiace questo Falings. Mi sembra molto interessante, molto figo. Anzi, posso buttarla lì. Vabbè, anche Miraydon è figo, per carità. Però, guarda, per essere Falings, forse è allo stesso livello di Miraydon, mi piace. Quindi mi piacciono tutti e due. La prima volta che l'ho visto ho detto, no, ma che è sta tozzeria? Ma è gigantesco, è lunghissimo. Ecco, infatti questo potrebbe essere uno dei problemi. Essendo veramente grande, sarà facile da colpire, magari con mosse degli avversari. Questo vedremo. Vedremo come avrà la hitbox. E niente, questo. Comunque, il video finisce qui. Purtroppo non ci fa vedere nient'altro. Ci fa vedere, beh, la descrizione è beat up. Ma tanto abbiamo capito quello che fanno, quindi... E mi sa che l'abbiamo addio letto. Boh, non lo so. Comunque, manda due truppe che attaccano e fanno danno sugli HP. Quando viene upgradata, questo non l'abbiamo visto. Ah, vedi? Recupera HP quando colpiamo con questa mossa. Vedi? Interessante anche questa cosa. Comunque, io vi invito quindi a guardare le live nei prossimi giorni e a tenervi informatissimi su queste novità perché stanno uscendo, ragazzi, delle cose anche un po' problematiche, probabilmente. Non so perché si parla di Pokémon Shiny, si parla un po' di Pay2Win. Vi farò un video aggiornamento anche su questo. ma non vi spoilerò ulteriormente perché appunto ne parleremo nel video apposito. Lasciate un bel commento qua sotto e alla prossima. Ciao! Ciao!